È stato usato per promuovere odio e nulla pace, è apprezzato le dichiarazioni dell'amministratore delegato della RAI, ci sono dichiarazioni importanti, apprezziamo quando riceviamo solidarietà e speriamo di ricevere sempre di più. Ma io non credo che il vostro scopo fosse divisivo. Assolutamente, rispetto alle decisioni di tutti, ma non sono assolutamente d'accordo con questa affermazione nella maniera più totale. Il Festival di Sanremo non ha mai promosso odio, ha sempre parlato di inclusione, di libertà e i cantanti che sono saliti sul palco hanno chiesto la fine della guerra, hanno chiesto la pace. E richiedere la pace vuol dire seminare odio, è esattamente il contrario. Quindi io sono convinto che questo naturalmente non vuol dire che voi abbiate dimenticato il massacro di 1200 israeli che in un festival sono stati massacrati. Esattamente, ma la guerra da qualsiasi parte è da condannare, non c'è una guerra da un lato o dall'altro. C'è la guerra che va fermata, qualsiasi guerra al mondo va fermata. Mai mi sarei sognato, ma neanche i cantanti, di portare odio. Anzi, noi portiamo esattamente l'opposto. I ragazzi che vengono in gara fanno messaggi a pelli di pace, di libertà, di idee, di pensiero, di uguaglianza di pelle, di valori. C'è esattamente Sanremo, mi sento di dire, nella storia e senza, come dire, sembrare presuntoso, in questi anni c'è un grande senso di inclusione che va assolutamente rispettato e mai cambiato. Se no torniamo indietro. Bene, allora.